e buongiorno mondo anche oggi solita colazione con il mio tazzone di caffè della moca la solita brioche e il solito yogurt sono un po noioso e su queste cose sono un abitudinario come diceva elio ho già preparato anche i panini per il pranzo perché oggi andrò a visitare monte isola non so ancora dove prendere il traghetto ma penso non da intro penso sia più facile da sulzano perché a sulzano c'è un traghetto ogni 20 minuti quindi è più facile riuscire a salire a bordo e prendere uno anche arrivando lì a orari a caso ed entra ce ne mi sembra due la mattina due pomeriggio e non è detto che ci si possa salire in bici se c'è troppa gente anche se oggi è venerdì e quindi non credo che ce ne sia poi così tanta sarà come ieri abbastanza tranquillo domani domenica invece sarà di nuovo una bolgia quindi faccio colazione preparo la bici e parto a dopo ragazzi e anche oggi con molta calma sulle 9 e 12 ma son pronto sono già in sella all'uscita del campeggio direzione sulzano dove prenderò il traghetto tanto lì ce n'è uno ogni 20 minuti per andare a visitare monte isola l'isola lacustre più grossa d'europa e vediamo un po come a dopo buongiorno farei un biglietto andato e ritorno per l'isola con la bici anche è arrivato sul sano biglietti fatti adesso attendo il traghetto e vado sull'isola raggiunta peschiera maraglio col traghetto ora comincia ufficialmente il mio tour di montisola ovviamente se si chiama monte isola un motivo c'è alle salite all'8% pedala già appena pedala dai che è facile fa solo un po' caldo dai cazzo ora penso un passo di chiavi io per fortuna non sono ancora passato di qua ragazzi mi insegno una cosa la scusante delle foto funziona così quando siete stanchi in salita vi fermate davanti al panorama con la scusa di fare una foto invece vi siete fermati solo per rifiatare ricordatevelo ciao ragazzi sto affrontando la salita per arrivare al santuario della madonna della ceriola e già il primo pezzo è abbastanza devastante le salite sono all'8-10% non così estremo ma abbastanza pesante soprattutto perché adesso è già mezzogiorno come vedete c'è il sole proprio a picco però guardate là in fondo che panoramiche regala le fatiche sono sempre ripagate quindi continuo ad arrivare fino alla vetta di questo Mont'Isola come avete visto le salite si stanno facendo abbastanza toste sono arrivato in località cure manca un chilometro al santuario ma per farvi capire quanto sarà il dislivello quello è il santuario e bisogna raggiungerlo in un chilometro quindi questo è il primo tratto della salita e po 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 gambe in spalla e si pedala e con non poca fatica anche al santuario della madonna della ceriola ci sono arrivato sono arrivato come al solito a luna col sola picco quindi il panorama me lo vedo con un po di affa e un po di velatura ma fa parte del gioco e comunque della mia brutta organizzazione come al solito e niente adesso mi fermo qua sotto che ci sono i tavoli da picnic mi mangio i miei due panini bevo un po mi rinfresco e poi riparto e da qui è poi tutta discesa e completo il giro dell'isola e basta questo è quanto grazie a tutti Ok, sono le 3.20, in giro di Montisola l'ho fatto, visto che c'è un po' di casino come potete vedere per prendere i traghetti ho fatto che mettermi già in coda, che sicuramente non prenderò il primo perché sono un sacco di biciclette da caricare e non penso che ne carichino più di 3 o 4 ogni viaggio, quindi faccio la mia coda e poi torno sulla terra ferma, ad ecco ragazzi, infatti come pensavo ne caricano 6 a viaggio, quindi adesso hanno smesso e penso, sì, al prossimo giro di starci dentro e quindi tra 20 minuti prendo il mio progetto. E così anche il giro di Montisola l'ho terminato, sono arrivato ormai sulla terra ferma, è e non mi resta che fare gli ultimi 12 chilometri e mezzo per tornare al campeggio e riposarmi con la mia classica birra di fine giornata. a dopo ragazzi. Molto bene ragazzi, anche questo piccolo tour del lago di Iseo posso considerarlo concluso, ho fatto oggi il giro di Montisola come avete visto, ho fatto comunque pochi chilometri rispetto agli altri giorni ma li ho battiti per colpa del caldo, oggi ha toccato 33 gradi nell'ora di punta, infatti adesso sono con i piedi nell'acqua per cercare di rinfrescarmi, dopo andrò a lavarmi, cambiarmi, fare un aperitivo e cenare, perché dopo cena incontrerò Renè nel gruppo robe da matti di Mattia Miraglio e come sapete ormai in ogni luogo che vado incontro qualcuno del gruppo e spacco le palle a tutti, quindi stasera toccare Renè, a dopo ragazzi, buona serata. E' una regola che nessuno apprezza, ma tutte le cose belle sono destinate a finire, ma solo per ricominciare da un'altra parte, quindi oggi è sabato, sto finendo di sistemare la bolgia che avevo creato qui dentro il mio van, tra poco carico anche la bicicletta, vado a pagare il mio soggiorno in questo campeggio dove mi sono trovato veramente bene e molto accogliente e poi mi rimetto in strada in direzione Vercelli e sarà finita anche questa avventura in maniera definitiva, come dicevo prima, solo per ricominciarne poi un'altra. a dopo ragazzi. 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 a dopo ragazzi.